benvenuti a questo nuovo episodio di voices of future oggi sono veramente molto contenta perché l'ospite di oggi è lorenzo ferrari benvenuto grazie ciao giorgia e grazie dell'invito grazie a te per essere con noi oggi io sono veramente super curiosa di conoscere un po più la tua storia da vicino capire un po i primi passi che hai che mosso anche perché in realtà sei super giovane quindi è pazzesco appunto vedere il già successo passami il termine che hai raggiunto in così poco tempo e quindi se ti va di raccontarci un po come sei partito come costruito tutto quanto e insomma se già avevi iniziato e capito che strada vorresti intraprendere già dagli anni degli superiori oppure se è stato un processo molto veloce poi con l'università allora successo cos'è il successo io guarda fatico sempre molto a pensare di essere una persona di successo cioè che addirittura dice che sono famoso in realtà io posso dire che mi sto affermando professionalmente per me ancora un percorso non penso di essere arrivato da nessuna parte sicuramente il successo non sta nell'essersi costruito una visibilità online nel mio caso su linkedin nel mio settore il successo per me è ben altro però il successo è anche una cosa soggettiva io ho iniziato nel 2019 quando ero ancora uno studente ormai questa storia l'ho raccontata un sacco di volte quindi proverò a raccontarla diversamente ero molto annoiato e quindi ho scaricato linkedin e da quel momento ho cominciato a incuriosirmi su come funzionasse la piattaforma e ho pubblicato il mio primo post così a caso io stavo aspettando di ricominciare l'università stavo cominciando a vedere i libri che avevo appena comprato per il nuovo anno tra questi c'era il libro di marketing ricordo che ho aperto una pagina parlava della storia di airbnb mi pare e niente l'ho raccontata in un post in una manciata di caratteri o non lo so perché ho continuato a fare ho intuito che potesse essermi utile probabilmente e ho continuato a farlo fino ad oggi stamattina avrei dovuto postare mannaggia mi sono scordato è diventato praticamente un parte della mia routine ma in realtà è stato un investimento in tutti questi anni perché poi mi ha consentito di crescere personalmente professionalmente di fare esperienza di aprirmi delle porte quindi ho iniziato così da quando poi ho cominciato a fare contenuti su linkedin ho avuto modo di fare esperienza in un'agenzia di fare esperienza in un'azienda di conoscere quello che è l'ambito del lavoro del social media manager del copy ho imparato a scrivere sono migliorato a scrivere io già avevo una predisposizione ma sono migliorato notevolmente insomma è stato un percorso di crescita continuo e ad oggi ho un'azienda però è tutto partito da un post che fa sorridere però alla fine non ci rendiamo conto l'insight è stato il post no Diego fa molto sorridere perché se ci pensi oggi abbiamo nelle mani questi strumenti che hanno un potere così elevato se capiamo come usarli bene che veramente ci permettono di relazionarci con persone banalmente che arrivano da tutto il mondo e magari ci trova gente che tu dici ma questo come è arrivato a me però alla fine è questo il bello no? riuscire ad ottenere poi dell'opportunità che nemmeno avevi a cui avevi pensato quindi questo veramente è pazzesco sì 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 è la forza dei social se utilizzati bene ma tu ad oggi diciamo il rimane LinkedIn il social il social su cui investi di più o ti sei buttato anche su altre piattaforme? mi ero buttato su TikTok poi mi hanno bannato perché facevo contenuti un po' ma no erano di intrattenimento diciamo così però un giorno ho detto qualcosa sui cinesi in modo scherzoso ed evidentemente qualcuno non è piaciuto all'algoritmo no di sicuro no tornerò sicuramente su TikTok sono su Instagram lì vabbè il primo social che mi sono fatto su cui adesso sto investendo un po' di più anche a livello professionale però non è la piattaforma principale la piattaforma principale è LinkedIn e onestamente è quella più funzionale ai miei obiettivi cioè sono un imprenditore ormai anche un imprenditore di conseguenza è per forza LinkedIn la piattaforma migliore quindi in realtà ho avuto una intuizione che si è poi rivelata molto utile però no li uso tutti tranne Facebook un po' da boomer queste piattaforme che ha senso usarle se Facebook no non ha più senso sono le sponsorizzate Twitter se sei un giornalista o media io non lo sono quindi no adopero solo Instagram e LinkedIn sì penso che alla fine c'è sempre quello no qual è il tuo target e qual è l'obiettivo dell'utilizzo alla fine se hai intuito che siano le uniche due che ti portano poi più risultati hai giusto puntare su quelle ma invece volevo chiederti no cioè alla fine un po' per il tuo settore prima hai detto che anche a livello di copy si è migliorato molto e sappiamo che nel marketing ha una delle caratteristiche principali se si vuole avere successo e come hai diciamo lavorato per migliorare questa skill scrivendo un post minimo al giorno ogni giorno dell'anno per più di due anni è stato un po' un esercizio di stile perché in realtà è poi un miglioramento continuo io poi amo abbastanza scrivere di conseguenza è stato proprio quello esercitarsi di continuo quindi diciamo se dovessi dare dei consigli a chi si vuole buttare un po' in questo mondo più che altro scrivere 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 cioè non ci sono dei personaggi a cui ti sei ispirato in un certo senso no non ci sono dei personaggi a cui mi sono ispirato ce ne sono tanti a cui che hanno fatto la storia insomma però non ce ne sono alcuni a cui mi sono ispirato no io ho fatto semplicemente esercizio quindi sì scrivere 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 e invece ok quindi sei partito diciamo negli anni dell'università e poi quando è concluso già ti hai rifatto comunque un certo ti hai costruito una certa visibilità e come ti è venuto comunque di aprirci una tua azienda cioè senza dire ok magari prima mi faccio un paio di anni di esperienza da dipendente e poi mi metto in proprio visto che comunque sei giovanissimo cioè cos'è che ti ha dato quella spinta da dire no ok cioè mi sento di poter iniziare questo percorso ma io l'ho fatta l'esperienza in azienda prima non è durata due anni l'ho fatta in agenzia l'ho fatta in azienda l'ho fatta come freelance l'ho fatta come non quindi in realtà l'avevo fatta un pochino di esperienza e poi in realtà perché sempre durante gli anni dell'università avevo creato un progetto personale e poi questo progetto personale è cresciuto così tanto che nel 2021 mi sono trovato davanti alla scelta sia mantenerlo come un hobby o concretizzarlo quindi è stato un po' tra virgolette dovuto l'altra opzione era cestinare tutti i sacrifici sì anche perché poi immagina che a livello di tempo da dedicarci avevo scelto di scendere al compromesso anche di abbassare la media dei voti per portarlo avanti alla fine infatti non sono uscito con 110 non me ne è mai fregato niente sono uscito con il mio 98 che è comunque molto molto dignitoso però nell'ultimo anno soprattutto il terzo la media è stata sempre del 25 non andavo sopra perché comunque io appena finivo di studiare lavorare su quello che poi in realtà era semplicemente fare contenuti però ogni giorno e prendeva tanto tempo è difficile perché in realtà non era un'azienda quindi è anche complesso spiegare a cosa io lavorassi perché lavoravo tutto il giorno magari in realtà non facevo niente però veramente ci passavo tutto il giorno a sviluppare mano a mano questo progetto ecco alla fine è diventata un'azienda ma nella fase comunque di produzione cioè immagino adesso tu ti sia chiaramente dopo tutte le esperienze che ti sei fatto un minimo strutturato nello sviluppo poi di contenuti ma come avviene il processo creativo passami il termine cioè nel senso c'è una fase in cui cerchi cosa potrebbe essere interessante no dipende ma ecco come azienda sicuramente bisogna capire cosa interessa al pubblico io in realtà come Lorenzo l'ho ormai interiorizzato cioè il mio pubblico dal 2019 che lo costruisco ed è dal 2019 che parlo di marketing ad oggi parlo anche di altre cose che mi competono chiaramente però so più o meno quello che piace ma io sono un caso a parte cioè come ha detto Mario Moroni che sicuramente conoscerai che è uno dei più grandi podcaster in Italia io non sono il benchmark cioè io sono un caso a parte l'ho interiorizzato tantissimo che non cioè io capisco anche quando ha senso ad esempio a me piacciono molto le campagne pubblicitarie e molto spesso mi capita di pubblicarle su LinkedIn io non non faccio dei non mi faccio delle pippe mentali ad esempio per capire se una campagna può piacere come post cioè se un post può spaccare o meno perché già lo so cioè lo intuisco ho interiorizzato così tanto queste cose che intuisco anche quelli che sono i contenuti che vanno perché e quindi è complicato insomma secondo me non è complicato ma è molto più semplice no però diventa così naturale diventa così naturale così insita in te che non stai a farci neanche troppi ragionamenti io quando creo un contenuto a volte cammino e mi viene l'idea cioè io sono proprio creativo dentro e poi è un circolo virtuoso perché farli mi stimola e di conseguenza poi tutto si alimenta infatti io da un po' per deformazione professionale da ingegnere mi è venuta la domanda se tu seguissi degli schemi delle schelette e delle cose però il tema che... non ho neanche più un piano editoriale come azienda sì come azienda sì ma perché non ci lavoro da solo ma io Lorenzo non seguo nessun piano editoriale e posto ogni giorno e non posto mai banalità ma appunto cioè il mio fine del discorso era che è palese che ti venga in modo così naturale così spontaneo che non fai fatica altrimenti non riusciresti a trovare così tante idee da poter pubblicare contenuti di valore ogni giorno quindi è chiaro che... la fatica c'è la fatica c'è però sì è tutto molto naturale cioè questa è la realtà proprio è molto naturale e non hai mai avuto dei periodi in cui cioè appunto la creatività va anche un po' a momenti no? in cui hai avuto un po' di down a livello di idee che non sapevi dove sbattere la testa questa è la fortuna di farlo dal 2019 perché quando non ho idee riposto cose magari di un anno prima che io riprendo non le posto mai uguali poi perché io quando prendo una roba la riscrivo completamente quindi le cambio del tutto e lo ripubblico ex novo ma in realtà magari è un contenuto che e io so anche se è andato bene o se è andato male e poi capisco in base al risultato come mai magari questa volta è andato meglio o peggio perché a volte è capitato che ripostassi cose che erano andate benissimo magari un anno prima e che sono andate in realtà poi che hanno performato meno bene quindi in realtà è anche utile no i momenti di down ci sono cioè io ho addirittura rinviato la scrittura di un libro di un anno perché perché me l'hanno proposto o avevo detto di sì alla casa editrice poi non ho scritto niente quindi questo ti fa capire quante momenti di down ci siano però scusa prima prima hai detto una cosa no che tu riesci a capire il motivo per cui un contenuto magari riproponendolo va meglio va peggio della volta precedente e com'è che cioè quali sono i fattori se riuscireste a identificarli che impattano maggiormente sono tantissimi sono tantissimi dall'orario di pubblicazione al momento storico quanto l'argomento sia di interesse sia chiacchierato qual è la situazione proprio sociale in cui viviamo dipende da tanti motivi alcuni sono psicologici altri un po' più sociologici altri banalmente di vanity matrix sono troppi per elencarli però per risponderti quando io ho momenti di mancanza di creatività che per carità capitano è normale anche dei creativi non esiste una persona che non ha mai questo genere di periodi o non pubblico o pubblico qualcosa di vecchio che ho già pubblicato che penso valga la pena ripubblicare che potrebbe sembrare un'attività tappabuchi e oggettivamente lo è ma in realtà la fortuna è che le persone sui social dopo che posti una volta al giorno per due anni non si ricordano quello che hai postato un anno prima giustamente alcune cose ha senso ricondividerle magari sono belle quindi insomma quando ho questi periodi qua o non posto o ripubblico cose vecchie perché se mi forzo non ci riesco eh certo quando le cose si fanno con forzatura poi c'è anche il risultato esce male la gente poi se ne accorge quindi interessante questa cosa ma diciamo in questo tuo processo di crescita hai avuto un mentor o una persona che in qualche modo ti ha un po' dato una visione di insieme una visione sul lungo periodo che avesse più esperienza di te ti consigliasse guarda esattamente come prima quando mi hai chiesto se c'è qualcuno a cui mi ispiro poi sembra sempre che sono pieno di me in realtà no non ho semplicemente trovato persone a cui ispirarmi e non c'è stato un mentore che mi ha guidato io ho fatto tutto ingenuamente ho iniziato a postare ingenuamente a fare contenuti ingenuamente ora faccio le cose con più consapevolezza perché ho acquisito esperienza ma in realtà no non c'è un mentore che mi guida nonostante sia molto utile soprattutto quando è un'azienda però non ce l'ho ci sono persone che stimo professionalmente umanamente però non sono mentori non ne ho mai avuti devo dire quello che ho fatto è tenermi attorno persone che mi potessero stimolare ecco però non è uguale ad avere dei mentori quelli non li ho mai avuti beh ma non devi dirla come una cosa diciamo cioè che sia una cosa positiva negativa era solo una curiosità cioè anzi che secondo me ti fa ancora più onore il fatto che ti sei un po' costruito questo percorso da solo senza però i suoi contro sì sì assolutamente chiaramente avrei preso anche tu dei pali in faccia che chiaramente ti avranno poi fatto svegliare e cambiare strada e cosa? ne prendo di continuo eh vabbè però ti direi che forse è il modo più veloce poi per crescere alla fine quando rischi ti prendi dei rischi non può sempre andare tutto a come dire a mirare il centro bisogna un attimo prendere la mira e poi ci si arriva però ci sta cioè fa parte del gioco e anzi un po' mi spiace che in Italia ci sia un po' questa mentalità tale per cui l'errore viene sempre visto cioè che che è poi un tentativo che è chiaro che se non fai non sbagli ma se una persona è una persona che si dà da fare prima di arrivare a capire qual è la cosa giusta prima deve sbagliare no? in Italia c'è un po' questo stigma tale per cui ha se sbagli ma invece no cioè bisognerebbe far passare lo sbaglio come un modo per provarci e continuare a raggiungere diciamo i propri obiettivi sì sono pienamente d'accordo ma infatti insomma gli errori fallimenti sono occasioni di crescita ecco e così vanno vanno interpretati a mio avviso e se devi pensare un po' al per ora breve percorso che penso sia solo il trampolino di lancio per tante grandissime opportunità per te se devi pensare diciamo a proprio una sfida che hai colto e che non ti è andata come speravi al primo al primo giro cosa ti verrebbe in mente qualcosa o ce ne sono veramente tante quindi no non mi viene in mente così su due piedi non mi viene in mente così su due piedi ma posso dirti che una delle più grandi sfide che sto affrontando sta nella gestione delle persone a livello proprio professionale perché cioè sono in pochi che ne parlano cioè da quello che ci stavo riflettendo di recente perché io continuo a interrogarmi come come amministratore delegato insomma come professionista su se io effettivamente gestisca bene i miei collaboratori a livello proprio di management e me lo chiedo così tanto che l'altro giorno mi sono messo a riflettere ho detto ma io non sento nessuno che parla di come gestisce i propri collaboratori il proprio team i rapporti professionali cioè sono tutti veramente così bravi in realtà poi confrontandomi insomma ma anche nell'arco della mia vita professionale mi sono reso conto che in realtà i professionisti manager non si pongono spesso il problema cioè non gliene frega sostanzialmente niente che il loro messaggio venga recepito bene o male da un loro collaboratore e io invece mi ci interrogo tantissimo quindi ed è anche ovviamente frustrante però questa è la sfida che sto portando avanti che sento proprio di più cioè è quella che mi pesa di più su cui faccio più fatica ma perché io sono una persona molto schietta sincera aperta e chiaramente questo sì bello bellissimo ma sul luogo di lavoro non funziona così perché abbiamo tutta una sensibilità diversa perché è un rapporto una situazione diversa entra il gioco dei ruoli quindi è complicato fare bene il manager e questa è la più grande sfida che sto portando avanti adesso tra tante altre sfide però no no assolutamente questa è sicuramente una sfida molto grossa e come dici tu un tema che veramente non se ne parla mai abbastanza e anzi forse cioè veramente se ne parla proprio poco perché è un tema molto delicato io secondo me ci sono due forse principali motivi il primo è che la maggior parte delle persone che si trova a gestire altre persone quindi che ricopre un ruolo di manager ci è arrivato solo perché in azienda dovevano fargli fare degli scatti quindi per anzianità ma non per merito perché avessero qualità particolari per gestire persone quindi il tema grosso è che queste persone non si fanno domande su come devono gestire le persone ma fanno semplicemente il loro lavoro trattando le persone come gli viene a volte spesso in modo non corretto e quindi poi è il motivo anche per cui tanti giovani poi se ne vanno dall'azienda si licenziano decidono un po' diciamo il fenomeno che stiamo vivendo negli ultimi anni post pandemia dall'altro invece ci sono magari persone che come te si interrogano perché magari sono persone un pochino più strutturate che hanno un minimo che vanno al di là proprio a livello di ragionamento e si interrogano se stanno facendo giusto o bene però come dici tu è un tema molto complesso perché è proprio una questione di un po' di ruoli anche io come te sono una persona molto schietta molto diretta e sincera cioè io faccio fatica a mentire come persona anche perché se mento me lo vedi in faccia perché comunque con il linguaggio del corpo sono molto trasparente e una volta mi è stato detto Giorgia però sul lavoro a volte bisognerebbe indossare delle maschere no? e a me questa cosa mi ha fatto riflettere perché mi sono detta cavolo da un lato è un conto gestire dei ruoli nel senso che ognuno deve a livello emotivo gestire le proprie emozioni sugli altri perché si parla di lavoro e quindi non è possibile non c'è spazio perché tutti come dire lasciano un po' andare le proprie emozioni perché altrimenti poi i rapporti un po' si vanno a inclinare dall'altro però il fatto di dire bisogna indossare delle maschere non lo trovo corretto perché a quel punto poi non riuscirai mai a creare dei rapporti veri con le persone sul posto di lavoro se le porti ma sul posto di lavoro guarda ti interrompo perché stavo io la penso come te e l'altro giorno ne stavo discutendo giusto con la mia socia parlavamo proprio di questa cosa qui e io continuavo a sostenere che cioè sarebbe bello creare dei rapporti veri sul luogo di lavoro cioè non vedo perché dovrei indossare una maschera in ogni momento ma in realtà il mondo del lavoro non è il mondo del mondo personale cioè la vita la vita privata non è la vita lavorativa e è un discorso completamente diverso cioè secondo me dipende dal ruolo perché è ovvio che tu più sali di ruolo più sali di ruolo più devi fare questa certo ma perché hai un impatto su più persone perché hai più responsabilità perché impatti di più anche sul sul mondo aziendale quindi beh sì certo nel mio caso nel mio caso sì ad esempio sì esatto cioè sono sono d'accordo che riuscire a mantenere un ruolo è molto importante quando si arriva ad un livello alto perché chiaramente non altrimenti non riesci a gestire persone se cioè se sono tuoi amici passami i termini che poi non vuol dire che non ci puoi uscire la sera a bere una birra però è diverso cioè il contesto e la gestione delle persone deve essere in modo diciamo separato e e volevo l'ultima domanda che volevo farti era se dovessi pensare so che è una domanda difficile no? poi anche queste sono un po' domande da colloquio e da grandi aziende se dovessi pensare a Lorenzo tra dieci anni o meglio qual è la tua ambizione più grande il tuo sogno dove vorresti in qualche modo arrivare che in questo momento un po' ti spinge e ti motiva tutti i giorni ho pubblicato giusto prima che facessimo questa questa chiacchierata un video estratto da un'intervista che mi hanno fatto in cui mi veniva fatta questa domanda e io rispondevo ah ora me la sono persa non lo so cioè non so dove mi vedo tra dieci anni a me importa essere felice appagato poi come che ne so cioè è veramente difficile dirlo a parte che viviamo in un mondo così fluido mutevole eccetera eccetera che rimanere rigidi all'interno di di propri desideri barra obiettivi è molto difficile io un obiettivo non ce l'ho l'obiettivo che mi rendo conto è essere molto o meglio un obiettivo ce l'ho non è tangibile e mi rendo conto sia molto intangibile ma è banalmente essere appagato e soddisfatto per tutti i sacrifici fatti da qui a dieci anni poi quello che farò boh non lo so non ne ho idea e non voglio farmela perché mi tengo aperte tutte le possibili strade alternative che potrei percorrere adesso sto percorrendo questa tra cinque anni magari ne percorrerò un'altra ma che mi frega cioè l'importante è che io sia appagato mi piace mi piace molto questa risposta perché mi ci rivedo molto e talvolta vivere un po' credendo di voler a tutti i costi raggiungere qualcosa che magari è un po' un'illusione di qualcosa in cui ci intestardiamo per realtà magari ci rendiamo conto ma voglio davvero questa cosa forse no quindi come dici tu per evitare di perdere opportunità e possibilità è sempre meglio vivere un po' come una pagina bianca e riuscire a scrivere poi man mano si incontrano persone si vivono esperienze il proprio percorso e anche essere disposti a magari cambiarlo e dire ok magari ho fatto cinque anni questo e un nuovo capitolo della mia vita magari mi esce meglio fare anche altro no? e non magari vedersi per forza sempre nella stessa direzione quindi bellissima bellissima risposta e prima però di lasciarti andare facciamo sempre tre domande per concludere le nostre interviste e la prima che ti faccio è ok adesso ti ho fatto diciamo la domanda nel futuro sul passato puoi rispondermi perché è passato quindi lo sai diciamo se avessi avuto la possibilità di dire qualcosa a Lorenzo di quando aveva 19 anni quindi diciamo alla fine degli superiori e doveva un attimo capire che percorso intraprendere cosa gli diresti un po' con la lucidità poi di oggi? Segui veramente quello che vuoi fare perché io ho fatto un istituto tecnico ovviamente i classici consigli delle maestre delle professoresse delle medie che dicono fai l'istituto tecnico perché sei uno smanettone un curioso perché ti dà possibilità lavorative perché il mondo sarà sempre più più tecnologico classici consigli di persone con tutto il rispetto che non capiscono niente o meglio non capiscono niente al di fuori delle solite cose che ripetono cioè che il mondo sia sempre più tecnologico ma esiste solo il computer cioè con il computer fai mille robe non è che devo andare a fare l'informatico tutte le persone che sono smanettone alle media almeno quando andavo io a fare l'ITIS l'istituto tecnico informatico a me l'informatica faceva schifo l'ho già capito dal primo anno in cui sono stato rimandato in informatica nelle materie umanistiche andavo benissimo ma quelle scientifiche scienza e chimica mi piacevano abbastanza ma matematica informatica tutte le materie scientifiche facevo schifo facevo schifo e quindi direi solo questo cioè segui veramente quello che ti piace fare io amavo il mondo della comunicazione ancora non lo sapevo però ero molto confidente dietro la videocamera stessa cosa poi si è vista nella mia vita quando ho provato a fare musica fallendo perché non era il mio ho provato a fare video su YouTube fallendo perché non mi interessava però era sempre nell'ambito della comunicazione quindi già avrei dovuto capirlo da quello e invece poi l'ho capito alla fine delle superiori per carità mi ha dato un background è stato utile anzi forse è stato più utile così perché ho avuto la possibilità di conoscere degli ambiti dei mondi che magari non avrei conosciuto andando subito nell'ambito umanistico assolutamente penso che alla fine la chiave sia sperimentare soprattutto quando si è così giovani perché è chiaro che non si può sapere a 18-19 anni però quello che non viene quello che non viene mai consigliato da giovani ti viene consigliato di solito quando magari sei già un po' più grande fai quello che ti piace fare da subito cioè io l'avrei fatto subito non l'avevo ancora capito vabbè però ci sta cioè ti posso dire nel senso a 18-19 anni quasi nessuno è molto raro che qualcuno riesca a capire già la propria strada quindi assolutamente è un consiglio che poi vale sempre bisognerebbe appunto iniziare a cogliere già secondo me dai 15-16 anni poi per tutto il percorso se invece dovessi pensare ad un libro che in qualche modo ti ha lasciato più degli altri sia che hai letto di recente sia che magari hai letto anni fa quale sarebbe? bella domanda non leggo troppo è una delle cose che voglio riprendere a fare però il primo che mi viene in mente è che mi ha lasciato un segno bianca come il latte rossa come il sangue non c'entra nulla con il mio lavoro non c'entra assolutamente niente ma è un bel libro molto toccante poi vabbè quindi è una sfizza che dovrei leggere molto interessanti però no sarò sincero è una delle cose che prima o poi ricomincerò a fare in realtà io leggo tantissimo ma non leggo libri eh no certo chiaro chiaro invece puoi aprire l'ultima domanda puoi aprire Spotify se vuoi se vuoi dirci tra canzoni che magari ti stimolano ti motivano ti piacciono sia che magari ti hanno un po' accompagnato negli ultimi anni o che semplicemente ti piacciono in questo periodo e che ascolti quali quali sarebbero? allora ascolto vabbè è difficile sceglierne una sicuramente che domanda Liberi di Fabri Fibra che parla anche molto della libertà espressiva soprattutto dice questi social che ci dicono come devi vestire con chi dovresti uscire che cosa dovresti dire anche se non lo vedi poi ci mettono pressione con tanta leggerezza ma non peso le parole questo per me è un messaggio molto importante e l'altra potrei dire Crudelia di Marrakesh molto toccante molto struggente ha caratterizzato un buon lungo periodo di questi tre anni di pandemia e l'altra qualcosa di allegro non lo so sto prendo la playlist di Spotify Hot Hits Italia boh non lo so non ho idea una che ascolti adesso in questo periodo in questi giorni io ne ascolto veramente tante ah vabbè dai possiamo dirlo I'm Good che è il remix di Blu degli FL65 di David Guetta bella che vabbè la sta ascoltando tutto il mondo mi mette molta carica eh sì molto molto bella vabbè allora io ti ti ringrazio per essere stato con noi oggi e per averci un po' condiviso alcuni step della tua storia io sicuramente credo sarà sarà di ispirazione utile a chi magari sta intraprendendo in un percorso simile ma anche ho voglia di conoscerti un pochino più da vicino grazie ancora e alla prossima grazie a te grazie a voi grazie a chi ascolterà grazie a tutti